Siamo con Mattia Muzzo, papà, che ci aveva promesso i gol e i gol sono arrivati. Sì, assolutamente, i gol prima o poi dovevano arrivare, sono arrivando, sono molto contento, però sicuramente sono molto più contento per i tre punti, per la prestazione della squadra, quindi quello è sempre importante, poi il gol fa sempre piacere, però diciamo che i tre punti sono fondamentali. Diciamo che sei uno degli esperti delle categorie, o comunque di queste categorie magari no, perché scendi da poco, però nelle altre categorie sopra c'eri già stato. Quanto è importante ripartire con una vittoria dopo la sosta del Natale? È fondamentale, direi anche, soprattutto perché abbiamo fatto anche dei carichi di lavoro importanti in questa fase di preparazione, quindi sicuramente ripartire forte dà stimoli ed è la cosa più importante. Quindi è difficile, siamo partiti forti, siamo partiti subito forti del primo tempo e il secondo, diciamo, meno bene del primo, c'è comunque da migliorare sempre, stiamo lavorando comunque bene, quindi siamo contenti. Intanto complimenti, ci vediamo domenica. Grazie mille, ciao.